Arriva dall'esperienza come prefetto di Catania, Maria Guia Federico, realtà dalle logiche diverse, ha rimarcato, ma anche dall'esperienza toscana. E lei, 61 anni, a capo del palazzo di governo di Campobasso, si è insediata da poche ore, ha preso il posto di Francesco Paolo di Menna. Mi è stato offerto Campobasso e accettato di buon grado e con orgoglio, ha detto. Il mio primo appoggio è positivo. Io sono felice, sono serena, ho accolto questo nuovo incarico con soddisfazione, sono qui al servizio del territorio. Aspetto alla realtà dalla quale vengo, è un'isola felice sicuramente. Sicuramente va preservata, assolutamente sì. Spenderò tutte le mie energie perché ciò avvenga. Spirito di servizio energia, collaborazione interistituzionale, coordinamento con le forze dell'ordine, le parole chiave del prefetto Maria Guia Federico. Queste le linee guida del suo operato. Non starò arroccata, ha detto ancora. Sono abituata ad affrontare di petto le questioni, ma è fondamentale l'ascolto. Io sono convinta che la prefettura rappresenti lo Stato. Lo Stato è di tutti, quindi la prefettura è aperta a tutti, alle esigenze di tutti. Quindi ad ascoltare sicuramente affronteremo tutte le richieste che ci saranno fatte e quindi dove ci sarà da intervenire, da mediare, perché ci viene richiesto, lo faremo. Tante le vertenze di lavoro aperte da affrontare. Non mi sottrarrò a questo tipo di lavoro, a questo tipo di approccio. Pensate che nella realtà dalla quale vengo, in prefettura abbiamo tenuto più di 150 riunioni sindacali, tese a salvare posti di lavoro, a garantire anche serenità a singoli cittadini. Quindi per me è importante che il cittadino viva la prefettura come casa sua, lo Stato e di tutti, continuo a ripeterlo. Tra le situazioni di lavoro difficili anche quella del settore giornalistico, come ha sottolineato pure il presidente dell'ordine Antonio Lupo, settore in fortissima crisi, con licenziamenti sul tavolo. Una legge regionale dell'editoria fortemente contestata, tra le altre cose. Come già fatto da Sostampa, anche Lupo ha sollecitato e chiesto un incontro al neoprefetto che si è dimostrata disponibile. E certo non mi sottrarrò. È chiaro che fisseremo un incontro anche con voi.